Deputato Guido Guidesi, c'è il rischio che il virus Ebola arrivi sulle nostre coste? La stessa domanda che noi poniamo attraverso un'interrogazione al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, poiché alcune notizie ci dicono che nei paesi di origine da dove stanno arrivando gli ultimi flussi migratori c'è una diffusione di questa malattia, una malattia mortale, pericolosa e noi abbiamo chiesto al Ministro Lorenzin se ha già fatto qualcosa, se ha intenzione di segnalare la cosa direttamente al Ministro Alfano magari si sveglia e ferma gli sbarchi anche per questo motivo. In effetti c'è il rischio che i migrati dalla Nigeria, dalla Guinea, dai paesi che sono stati colpiti, siano già arrivati nel Nord Africa? C'è un rischio di questo tipo, c'è il rischio che a Lampedusa siano arrivate persone di paesi dove questa malattia è già diffusa e noi non vogliamo assolutamente correre il rischio che questa malattia ovviamente si diffonda in Italia che non colpisca soprattutto i volontari che assistono gli immigrati clandestini quando arrivano. Noi siamo sorpresi del fatto che il governo non si sia accorto di questa situazione e non abbia ancora preso le misure giuste nella speranza di essere arrivati in tempo.